Salve, eccoci qua in questo paradiso, in campagna, per affrontare un tema che spesso mi viene chiesto, che è uno dei temi, non dico più noiosi, ma a volte che rimangono più ostici nello studio del diritto amministrativo, quello che è la definizione di atto e provvedimento amministrativo e poi della patologia dell'atto amministrativo. Quindi un ripasso per chi sta studiando da diverso tempo è un'occasione per chi magari si appresta al diritto amministrativo con tentativo di fare anche qualche esempio pratico e concreto. Allora, intanto sto utilizzando un testo di supporto in modo tale da seguire lo schema che poi trovate nei libri se seguite dei testi commerciali oppure anche nel book 01 dove ho affrontato queste tematiche. Allora, cos'è l'atto amministrativo? Intanto partiamo da un presupposto. La pubblica amministrazione adotta atti che hanno forme e contenuti diversi, atti di natura privatistica, atti a carattere generale, normativi, provvedimenti amministrativi. Gli atti amministrativi sono vari, i più importanti sono quelli con cui si concretizza e si formalizza la volontà della pubblica amministrazione e fra questi, tra i vari atti, un particolare rilievo hanno i provvedimenti amministrativi. Quindi la famiglia più ampia è quella degli atti amministrativi. Fra gli atti amministrativi ci sono i provvedimenti amministrativi, quegli atti capaci di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei privati, nonché di poter essere portati in esecuzione anche contro la volontà dei privati. Questa è la caratteristica dei provvedimenti, a differenza del rapporto privatistico tra due pari, dove non si può unilateralmente imporre all'altra parte una propria volontà, tranne casi eccezionali. Allora, come vengono classificati gli atti amministrativi? Ci sono varie classificazioni. Una prima è legata alla natura dell'atto. Abbiamo atti di amministrazione attiva, cioè quelli con i quali si soddisfano gli interessi della pubblica amministrazione, in senso lato, della collettività tutelata dall'amministrazione. Quindi l'amministrazione attiva è quella che si sostanzia in provvedimenti, sanzioni, autorizzazioni, permessi, dinieghi. Questa è amministrazione attiva, quindi che produce un effetto diretto sulla collettività. Mi chiedi un permesso, ti rilascio il permesso. Poi abbiamo atti di amministrazione consultiva, cioè mi chiedi un parere, non sono io che adotto l'atto, ma io esprimo un parere in base alla mia competenza. Infine, gli atti di controllo, gli atti dell'amministrazione di controllo, dove un'amministrazione controlla, verifica gli atti di un'altra amministrazione, o in via preventiva o in via successiva. C'è poi un'altra distinzione all'interno degli atti amministrativi, è quella in relazione all'elemento cosiddetto psichico, la volontà dell'amministrazione. Allora abbiamo atti consistenti in manifestazioni di volontà, io voglio sanzionarti, io voglio autorizzarti. Atti di manifestazione di conoscenza, dove si dichiara che il soggetto è residente in, ha quella specifica, svolge quella specifica attività, quindi si attesta un elemento frutto della conoscenza da parte dell'amministrazione, e atti consistenti in manifestazioni di giudizio. Ad esempio, quando partecipate al concorso, il commissario non dice che voi siete bravi o cattivi, vi dà un giudizio, dite che siete da 27, da 26, per quella prova, non in assoluto. Quindi, una seconda distinzione abbiamo detto sull'elemento psichico. Un'altra è sul livello di discrezionalità, che margine di scelta ha nell'amministrazione. Allora qui c'è la classica distinzione fra atti discrezionali e atti vincolati. Negli atti vincolati l'amministrazione segue un percorso che lo porta automaticamente, senza una valutazione, al risultato. E poi abbiamo una classificazione in termini di efficacia, per cui abbiamo atti costitutivi, cioè quelli che creano una nuova situazione, da atti dichiarativi, quelli che accertano, dichiarano l'esistenza di un qualcosa, senza, diciamo, aggiungere altro rispetto al contesto normativo. Ma abbiamo altre classificazioni, ad esempio in relazione al risultato si parla di atti ampliativi o atti restrittivi, in relazione a destinatari, atti particolari, cioè se riguardano un singolo destinatario, ad esempio l'ordine di demolizione o una pluralità di destinatari, fino ad arrivare ad atti collettivi che riguardano un complesso di individui o gli atti generali che riguardano l'intera collettività di riferimento, pensate ai regolamenti. E poi ci sono altre classificazioni che trovate sui testi. Però al di là ora delle classificazioni che ci servono per introdurre il tema di oggi, andiamo alla patologia. Patologia che è un termine medico, che è lo studio degli aspetti negativi di un fenomeno, che allude proprio a questo, cioè cosa accade quando le cose non vanno bene, perché finché tutto va bene si adottano atti e provvedimenti amministrativi e tutti amici come prima. Cosa accade se c'è qualcosa che non va? E questo è lo studio appunto che trovate in tutti i capitoli di diritto amministrativo, vi serve per la preparazione dei concorsi, che è la patologia dell'atto amministrativo, che riguarda i casi in cui l'atto o l'azione dell'amministrazione, perché la patologia può riguardare anche un comportamento, non soltanto un atto, non è conforme alla norma e quindi non essendo conforme si ha un cosiddetto vizio dell'atto o dell'azione amministrativa. Noi ora ci concentriamo sull'atto amministrativo. Quali sono queste ipotesi di cosiddetti stati patologici dell'atto amministrativo? La prima ipotesi è l'invalidità, anche in questo caso è una famiglia. All'interno dell'invalidità ci rientra la nullità e l'annullabilità, quindi attenzione, è un genere a specie. Quindi l'invalido è quando sia difettoso o sia viziato di uno degli elementi o requisiti previsti dalla norma o quando sia leso un interesse tutelato dalla norma. E appunto a seconda della gravità si hanno ipotesi di nullità, che è il vizio più grave, e ipotesi invece di annullabilità, che è un vizio importante, sicuramente meno grave. Ma l'invalidità si differenzia dalla irregolarità. Che cos'è l'irregolarità? È un vizio per cui la legge non prevede direttamente o indirettamente un effetto caducatorio, cioè un effetto sul provvedimento. Diciamo è una tirata d'orecchie rispetto ai vizi più gravi. Quindi non ci sono conseguenze negative sull'atto, ci possono essere conseguenze sulla gente, su colui che ha adottato l'atto. Quindi è irregolare il provvedimento amministrativo adottato oltre il decorso del termine, se non c'è silenzio assenso o silenzio rigetto, per cui il dipendente potrebbe avere conseguenze in termini disciplinari, in termini di valutazione di performance. L'irregolarità quindi è un vizio decisamente minore. Oltre all'ipotesi di invalidità e irregolarità però ci sono anche stati patologici che riguardano la produzione degli effetti. Perché? Perché l'atto amministrativo segue un iter, l'iter del procedimento amministrativo. Allora in questi casi si hanno tre ipotesi patologiche. L'imperfezione, l'inefficacia e l'ineseguibilità. Attenzione, quindi stiamo facendo riferimento ad un atto, lo stesso atto, che a seconda dello stadio in cui si trova all'interno del procedimento può essere imperfetto, inefficace, ineseguibile. E ovviamente poi l'ipotesi più fisiologica è quello che sia perfetto, efficace ed eseguibile. Quando è che è imperfetto? Quando non si è concluso il ciclo di formazione dell'atto. Il provvedimento del dirigente non è stato firmato, quindi è tutto pronto ma non è firmato e quindi non è perfetto. Pensate a una determina dirigenziale, a una determina di impegno di spesa. Il responsabile del procedimento la prepara, la mette alla firma del responsabile, quell'atto non è perfetto. In realtà forse non c'è neanche quell'atto, ma diciamo che l'esempio classico che si fa nei libri è il DPR non controfirmato dal ministro, quindi firmato dal Presidente della Repubblica ma non controfirmato. Quindi l'atto c'è ma non è perfetto perché manca l'ultimo elemento della fattispecie. L'inefficacia riguarda l'atto perfetto, quindi quando l'atto perfetto non è idoneo a produrre gli effetti giuridici in quanto manca di un requisito di efficacia, ad esempio un atto soggetto a controllo, l'esempio classico di atto inefficace è la determina dirigenziale di impegno di spesa che non è stata avvistata. Noi sappiamo che la determina firmata dal dirigente è un atto perfetto, quindi abbiamo detto la determina proposta è un atto imperfetto, la determina firmata è un atto perfetto ma inefficace. Perché? Perché c'è il visto di regolità contabile che interviene nella fase integrativa dell'efficacia. Oppure un provvedimento recettizio, si chiamano provvedimenti recettizi quelli che producono effetti quando sono posti a conoscenza dell'interessato. L'ordinanza di demolizione firmata dal dirigente è ancora non notificata, quindi l'interessato non è a conoscenza, è un atto perfetto, inefficace. Quindi l'atto di per sé stesso può essere o non essere viziato, questo non lo sappiamo. È perfetto anche un atto viziato, attenzione a questo concetto che è un po' difficile da spiegarsi. Io posso avere un provvedimento amministrativo che è perfetto perché ha concluso la prima step del suo iter, è inefficace semplicemente perché non è stato notificato all'interessato. Poi se l'interessato l'impugna e dimostra che l'ordine di demolizione non doveva essere adottato lo può rendere annullato o addirittura far dichiarare nulla. Quindi inefficace perché? Perché è soggetto a controlli o perché è un atto recettizio soggetto a comunicazione oppure pensate a un provvedimento con il quale io ti ordino di demolire l'abitazione entro 30 giorni. Ovviamente fino alla scadenza del termine la parte prescrittiva, diciamola così, del provvedimento non è efficace, io non ti posso sanzionare per inosservanza finché non sono passati 30 giorni. In questo caso ho un termine iniziale, ho una condizione sospensiva, ti ordino di rimuovere i rifiuti che sono sul tuo terreno se idonei ad invadere la strada o a creare un danno ambientale, se condizione. Quindi quell'ordine è inefficace se non si realizza la condizione sospensiva. Quindi abbiamo provvedimenti imperfetti, provvedimenti inefficaci. Attenzione, l'inefficacia è un vizio, chiamiamolo così, temporaneo. Quando c'è il visto contabile l'atto diventa efficace, non serve riadottarlo. Quindi per questo vi dicevo interviene sull'iter più che sul provvedimento. E poi abbiamo il provvedimento ineseguibile. È anche questo un vizio temporaneo per il sopravvenire di un atto stativo, ad esempio un'ordinanza di sospensione. Ti autorizzo a costruire casa, provvedimento perfetto ed efficace. Dopodiché ti ordinano la sospensione dei lavori. Questa sospensione dei lavori rende ineseguibile il primo provvedimento, che rimane perfetto ed efficace, ma ineseguibile per un aspetto temporaneo, perché ti ho beccato col cantiere irregolare o perché nel frattempo sta piovendo e ci sono altre problematiche. Quindi, invalido e irregolare la distinzione fra gli atti amministrativi, imperfetto, inefficace ed ineseguibile in relazione all'idoneità a produrre gli effetti. Allora, entriamo adesso più nel merito delle ipotesi di nullità. L'articolo 21 sepsies della legge 241 del 90, che recepisce un indirizzo giurisprudenziale consolidato, quindi non è che è dal 1990, anzi neanche dal 90, da quando è stato introdotto dal 21 sepsies che si hanno le ipotesi di nullità. La nullità si ha nel diritto amministrativo dalla nascita del diritto amministrativo stesso. Quindi, la presenza di vizi di nullità dell'atto amministrativo è stata ricondotta a tre fatti specie fondamentali. Primo, la mancanza di un elemento essenziale. Un elemento essenziale è quello che determina le caratteristiche, la struttura dell'atto. Se manca questo elemento, l'atto è nullo. Cosa significa? Non produttivo giuridicamente di effetti. Se mi viene ordinata la demolizione attraverso un provvedimento adottato da un privato o da un soggetto privo di legittimazione, l'atto è improduttivo di effetti, ancorché io poi possa demolire l'abitazione spontaneamente credendo reale e legittimo quel provvedimento. Un difetto assoluto di attribuzione, l'ordine di demolizione emesso dal dirigente scolastico, che non ha alcun potere in materia di governo del territorio e quindi privo di qualunque legittimazione, ancorché sia un dipendente pubblico, oppure l'ordine di demolizione che mi viene notificato dal vicino di casa, che difetta di qualunque potere amministrativo, è un provvedimento nullo. Oppure, e questo è il terzo caso, adottato in violazione o elusione del giudicato, cioè l'amministrazione che è stata condannata o comunque ha perso un ricorso ed è tenuta ad adottare un provvedimento amministrativo di un certo tipo e che non lo adotta, lo adotta diverso o utilizza degli stratagemmi, elusione del giudicato, per violare il provvedimento del giudice. In quel caso il legislatore riconosce che questo provvedimento è nullo. Ad esempio il giudice annulla l'ordine di demolizione perché, adottato in carenza di istruttoria, cioè l'amministrazione ha ordinato la demolizione senza fare un'istruttoria adeguata, arriva l'amministrazione che riadotta lo stesso provvedimento senza fare un'istruttoria adeguata in violazione del giudicato che la condanna a rifare la stessa istruttoria. Invece l'annullabilità riguarda un atto amministrativo esistente, l'atto amministrativo nullo si dice anche inesistente anche se la dottrina poi distingue l'annullità dall'inesistenza, ma insomma sono affinatezze dottrinarie, mentre l'atto amministrativo annullabile è quello che è viziato da vizi di legittimità. L'atto è illegittimo e quindi annullabile. Siamo in presenza dell'articolo 21 OXIES che stabilisce appunto i vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Come sapete sono tre, anche questi, l'incompetenza relativa, la violazione di legge e l'eccesso di potere. Ora, mentre per l'incompetenza relativa è abbastanza facile definirla, perché si ha incompetenza relativa quando un organo della stessa amministrazione adotta un provvedimento di competenza di un altro organo. La giunta al posto del consiglio, il consiglio al posto del sindaco, il dirigente A al posto del dirigente B. L'incompetenza relativa è, diciamo, un vizio di legittimità, ma abbastanza semplice perché basta poi che controfirmi o riadotti l'atto l'organo competente e il vizio viene sanato. Quindi è il vizio a maggior possibilità di sanatoria. Diversa è la violazione di legge, termini con cui si allude non soltanto alla violazione di una norma di primo grado, legge, ma alla violazione di qualunque disposizione normativa che l'amministrazione deve seguire, dalle leggi in senso formale, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti, leggi regionali, regolamenti comunali, ma addirittura le circolari se vincolanti per l'amministrazione. L'eccesso di potere è quello più difficile da descrivere. Perché? Perché l'eccesso di potere intanto è il vizio della discrezionalità. Mentre l'incompetenza e la violazione di legge riguardano sia i provvedimenti discrezionali che quelli vincolati, l'eccesso di potere è il vizio tipico della discrezionalità, dove l'atto è viziato se c'è un uso non ordinario del potere pubblico, non rispettoso dei criteri di logicità, attenzione, non soltanto di legimità. Cioè non si è violato una norma, ma si è violato la logica che sta dietro quella norma. Caso classico, per farvi un esempio. Se io chiedo il permesso di costruire per costruire una villetta e l'amministrazione chiede il parere alla AS, dai vigili del fuoco, all'ufficio del verde e mi fa un provvedimento in cui dice, visto il parere favorevole dell'AS, visto il parere favorevole dei vigili del fuoco, visto il parere favorevole dell'ufficio del verde, nega il permesso di costruire. Qui è vero che l'amministrazione ha un potere discrezionale, ma il ragionamento è del tutto illogico. Quindi non si sta violando una norma, perché la norma mi dà il potere di autorizzare o non autorizzare, ma me lo dà consentendomi di utilizzarlo in modo razionale. Allora tutti i vizi della motivazione, della logica che sta dietro la motivazione, oppure ci sono altri vizi, ad esempio la disparità di trattamento, dove in presenza di condizioni analoghe si trattano cittadini in modo diverso. Quindi al cittadino A non faccio costruire casa, al cittadino B che è nelle stesse identiche condizioni, non faccio costruire casa. Oppure violazione e vizi del procedimento, per cui non acquisisco determinati pareri obbligatori e quindi la volontà viene viziata dal fatto che non ho acquisito quegli elementi. Oppure adotto un provvedimento in modo completamente discrezionale, senza idonei parametri di riferimento. Ad esempio attribuisco un contributo senza aver predeterminato i criteri di assegnazione del contributo stesso. Quindi una serie di vizi che portano alla illegittimità del provvedimento amministrativo. Cosa succede a un provvedimento amministrativo illegittimo? Succede che, prima ipotesi, nessuno se ne accorge. Il provvedimento viene adottato, l'amministrazione non fa niente, l'interessato lo accetta e, decorsi 60 giorni, 60 è il termine ordinario, 30 è il termine ridotto per certe procedure, il vizio si sana, fra virgolette, in realtà non si sana. Diventa inoppugnabile. Il provvedimento amministrativo non può essere più portato davanti al giudice. Perché? Perché per i provvedimenti amministrativi esiste un termine breve di prescrizione. Per garantire barra evitare che l'azione amministrativa rimanga subiudice per troppo tempo, come avviene invece nei rapporti civilistici, c'è un termine breve. Se non fai niente, 60 giorni e ti becchi l'ordine di demolizione illegittimo. E devi demolire, perché non puoi più fare ricorso. Viceversa, seconda ipotesi, l'amministrazione potrebbe ricorrere all'autotutela, cioè valutare che, pur essendo diventato inoppugnabile il provvedimento, o anche se non lo è ancora diventato, l'amministrazione può adottare l'autotutela sia nei 60 giorni che dopo, comunque entro un termine ragionevole, può prima attivare il procedimento di secondo grado, cioè rivisitando la valutazione che aveva fatto originariamente. E questo avviene attraverso il 21 nonies, l'annullamento d'ufficio, perché un provvedimento può essere annullato o dal giudice, quindi in caso di ricorso da parte dell'interessato, o da un'altra pubblica amministrazione, nel caso dei ricorsi amministrativi, ricorso in opposizione al ricorso gerarchico, quindi dalla stessa amministrazione o da un'amministrazione superiore, o ricorso straordinario al capo dello Stato, che è una forma di ricorso paragiurisdizionale, oppure dall'amministrazione stessa, attraverso l'annullamento d'ufficio, che però ha tre condizioni fondamentali. Primo, che l'atto sia illegittimo, non si può annullare se non c'è un vizio di legittimità. Secondo, che non sia decorso un termine comunque non superiore a dodici mesi, è comunque ragionevole perché, terza condizione, non si sia consolidato un legittimo affidamento in capo all'interessato, perché l'interessato a cui gli ho detto puoi costruire la tua villetta e già è a costruire il secondo piano, dopo sei mesi non gli posso dire buttala giù perché mi sono sbagliato nella procedura, non ho chiesto il parere AS. In quel caso ho esaurito il mio potere di annullamento in autotutela. Intanto ringrazio tutti quelli che stanno commentando, che mi dicono buon pomeriggio, qui in provincia di Verona nebbia e basta, qui siamo in Toscana, altro mondo, qui c'è un bel sole, quasi 18 gradi, penso 18-20 gradi in questo momento, una bellissima passeggiata. Intanto guardo qualche vostro commento, spero di farci al concorso, ma il suo lavoro è stupitoso, grazie Martina. Lo sviamento di potere rientra nella nullità o nell'annullabilità? Lo sviamento di potere rientra nella annullabilità, è una figura sintomatica di eccesso di potere. Il libro che hai in mano lo riporta in tutte e due casi? No, non può essere. Lo sviamento di potere? No. L'abuso di potere, probabilmente, parte della dottrina utilizza formule che assomigliano, ma lo sviamento di potere è il vizio tipico dell'eccesso di potere, la figura tipica dell'eccesso di potere. Poi ci sono le figure sintomatiche di eccesso di potere. Intanto ringrazio chi apprezza con i like queste dirette passeggiando, sia la mattina presto all'alba, sia in questo momento, in questi momenti. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre domande. Magari non usciamo fuori dal tema, eh. Laura ha superata la presa elettiva grazie a lei. Bene, primo step. Ancora c'è per arrivare alla vittoria, però insomma è già un primo step. Intanto mi tolgo gli occhiali. Immerso nella natura, continuo la mia passeggiata, però se avete qualche curiosità, avanti tutta, sempre avanti tutta. La campagna toscana è eccezionale. Consuello mi sa che sto avvicinandomi verso casa tua, fra le altre cose. Sono qui, diciamo, in zona, non diciamo per motivi di privacy e riservatezza. Allora, la zona, diciamo il comune, la Strassigna, colline di la Strassigna, l'ho detto varie volte, quindi questo si può dire, però in questo momento è veramente fantastica. Inizia a sentirsi gli odori e i rumori della primavera, un po' a gennaio non è così tanto fisiologico, però diciamo che prendiamo il lato positivo delle problematiche di carattere ambientale che ci sono. Allora, temperatura 18-20 gradi tranquillamente, in questo momento si percepiscono forti. Però torniamo al diritto. Allora, abbiamo detto, diritto, facciamo una sintesi di quello che è stata questa diretta. Distinzione fra atti e provvedimenti. Gli atti si dividono in varie tipologie a seconda delle caratteristiche, della natura, dell'elemento psichico, eccetera, eccetera. Ma i più importanti sono i provvedimenti, quelli che caratterizzano l'azione amministrativa. Il provvedimento amministrativo, cioè quell'atto amministrativo diretto a produrre effetti unilaterali nei confronti del destinatario. Atto che può essere posto in esecuzione anche contro la volontà dello stesso. Riguardo ai provvedimenti, quindi, possono esserci provvedimenti che entrano in uno stato patologico, grave o meno grave, invalidità, irregolarità. All'interno dell'invalidità poi abbiamo la distinzione fra nullità e annullabilità. E sempre all'interno, diciamo, dell'analisi dei casi di nullità e annullabilità abbiamo tre ipotesi di nullità, tre ipotesi di annullabilità. Quindi dal punto di vista numerico è anche semplice cercare di memorizzarle. Impugnabilità della decisione sul rilascio di una scia. I casi di impugnabilità della decisione dell'APA sul rilascio di una scia. Intanto non si rilasciano le scia. Quindi il concetto di rilascio di scia è tecnicamente errato. La scia è un atto del privato con il quale, autocertificando il possesso di requisiti, dichiara l'esercizio di un'attività di vario genere in presenza di determinati presupposti. L'attività ha carattere vincolato, non vi sono contingenti numerici o limiti numerici all'esercizio della stessa e non si ricade in uno degli ambiti delle amministrazioni a tutela dell'ordine pubblico, sicurezza, sanità, ambiente. In presenza di queste condizioni, per fare un esempio, chi apre un negozio fa una scia e apre il negozio. La scia non è impugnabile, quindi non è impugnabile dal controinteressato, non è impugnabile dall'amministrazione. L'amministrazione ha un onere di controllo che si realizza in due momenti. Un primo momento che è nei 30 giorni in caso di edilizia, 60 giorni per tutte le altre materie, nel quale, senza necessità di avviare un procedimento, perché non è un procedimento di controllo di secondo grado, ma il legislatore lo configura come un procedimento di primo grado, quindi il controllo sulla scia, l'amministrazione verifica il possesso dei requisiti e in caso di accertata carenza di requisiti interviene a dichiarando inefficace la scia, laddove il requisito non è posseduto e non è possedibile, usando un neologismo, e, seconda ipotesi, se il requisito non è posseduto, ma può essere posseduto dall'interessato, cioè sospende l'efficacia della scia e consente all'interessato di maturare questo requisito, sanando, come così, la scia 19, per articolo 19, legge 291, comma 3. Decorsi i 30, 60 giorni, la scia si consolida, ma non in maniera assoluta, perché? Perché entro un anno dalla scia l'amministrazione può intervenire in autotutela attraverso l'annullamento d'ufficio. Questo è un caso un po' singolare, la dottrina, diciamo, storcia un po' il naso, perché è un caso di annullamento di un atto del privato, perché la scia, abbiamo detto, non è l'atto dell'amministrazione, ma la legge consente, e infatti non si chiama di annullamento della scia, ma annullamento degli effetti della scia, consente l'autotutela sugli effetti della scia, entro un anno, sempre alle condizioni che ci siamo detti, ok? Decorso un anno, la scia si consolida e quindi non si può più intervenire, poi va bene, si può discutere se si può intervenire non tanto sugli effetti della scia, ma sull'immobile che è stato realizzato, pensate all'ambito edilizio, ma questo è più complicato. Può fare un accenno al criterio di ottemperanza? Allora, probabilmente il T9 ha corretto in giudizio di ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza è quel giudizio che si chiede al giudice amministrativo laddove la pubblica amministrazione non si conformi ad una sentenza esecutiva del giudice stesso. Quindi io chiedo il permesso per aprire un bar, o meglio il bar abbiamo detto in scia, ma per avere un deor davanti al bar. L'amministrazione non mi rilascia niente, né un'autorizzazione barra concessione, né un diniego, quindi non posso fare nulla. Chiedo al giudice di condannare l'amministrazione a decidere sul provvedimento, non a rilasciarmelo, ma a decidere sul provvedimento, l'amministrazione condannata con sentenza esecutiva, anche non passata in giudicato, ma esecutiva, non adotta alcun provvedimento, chiedo al giudice il giudizio di ottemperanza. Cioè che cosa gli chiedo? Chiedo di nominare un cosiddetto commissario ad acta, formula latina che indica un commissario deputato a fare gli atti, ad acta, è plurale di actum in latino, c'è un commissario, c'è un soggetto esterno che dovrà valutare l'istanza e poi adottare il provvedimento, che può essere anche un diniego, quindi nel giudizio di ottemperanza può anche trasformarsi in un diniego per l'interessato, ma almeno un provvedimento che poi potrò impugnare nelle sedi opportune. No, ora non parliamo di convalescenza e conservazione, farò un'altra diretta sulla modalità attraverso quale i procedimenti di secondo grado si possono sanare gli effetti o gli atti amministrativi. Caterina, grazie per i suoi esempi, sono fondamentali, sì, ritengo che a parte miei, diciamo, in generale è apprezzabile chi facendo docenza, facendo video, a tutti i livelli, chiacchierando, riesce a unire la parte teorica, che comunque è fondamentale, anche l'uso del linguaggio appropriato è importante, ma se poi io imparo a memoria una definizione, l'atto amministrativo è bla bla bla, ma non so di cosa si parla, quindi non so distinguere nella realtà, non ho mai visto un'altra amministrativa, poi è difficile capirlo, quindi ritengo che in primo luogo la didattica serva per capire le cose, poi si impareranno anche con la giusta terminologia e la giusta metodologia, che è importante, non deve apparire che insegnare camminando o correndo o facendo i cruci di verba o ridendo, sia un modo per sminuire l'importanza anche dello studio, tra virgolette, serio, che rimane, rimane comunque fondamentale, però insomma si può anche in tutte e due le modalità. Vediamo, vediamo un po' i vostri commenti, se ce ne sono altri, altrimenti io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, vi saluto per il momento e oggi pomeriggio se siete online ci saranno altri momenti e occasioni per confrontarci. A presto, arrivederci.